Da oggi lo stabilimento della ex Siderpotenza del gruppo Pittini è sotto sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Potenza a conclusione delle indagini condotte dai carabinieri del NOE tra il 2012 e il 2014. L'accusa riguarda la dispersione in atmosfera di sostanze inquinanti come diossina, furanimo, ossido di carbonio, oltre il livello tollerato. Un superamento di poco superiore ai limiti previsti, ma sufficiente a determinare la decisione del sequestro preventivo. Indagati al momento Marco Minini e Federico Pittini. Il lavoro degli inquirenti è partito dalle segnalazioni dei cittadini. Gli esiti della relazione del Collegio di Periti della Procura hanno evidenziato l'insufficienza dei sistemi di aspirazione che non garantiscono allo Stato di eliminare o contenere la presenza di diossina, di idrocarburi e delle altre emissioni nell'ambiente. Da qui la necessità doverosa di procedere al sequestro preventivo con imposizione alla società di procedere prima di tutto all'installazione di porte mobili sul sottotetto dello stabilimento e successivamente ad uno studio sulla dispersione in atmosfera dei prodotti contaminati e all'adozione con urgenza di tutte quelle misure idonee a risolvere il problema dell'inquinamento. L'adozione di tali soluzioni è stato detto, se apprestate con la massima sollecitudine, potrà evitare probabili conseguenze sull'occupazione e sull'attività dell'azienda. Intanto devo dire che Noa ha raccolto una serie di lamentele che venivano da cittadini che abitavano nelle zone circostanti allo stabilimento, che riguardavano appunto dei cattivi odori, insomma qualcosa che li preoccupava proprio tenuto conto della vicinanza dell'impianto. Successivamente accertamenti tecnici svolti da un collegio di periti, ha stabilito che le emissioni che erano la conseguenza della lavorazione che svolge questa società erano tali da superare quei limiti previsti appunto e che garantiscono la salute della collettività. Quindi erano stati superati e in conseguenza di una insufficienza degli impianti di aspirazione di questi prodotti da parte della società, che devo dire aveva cercato in qualche maniera di potenziare questo sistema, ma ripeto questo collegio di periti l'ha ritenuto insufficiente. Quindi abbiamo dovuto prendere le nostre iniziative per garantire la salute della collettività. Sai che sicuramente interessa i cittadini e di quanto il superamento del limite previsto di Furani, ricordiamo di Ossina, Monossido? Diciamo che il limite è stato superato, per quanto riguarda le percentuali non posso dire in quale quantità ciò è avvenuto, nel senso sappiamo in quale quantità è avvenuto, ma certamente non possiamo dare indicazioni sulle conseguenze sulla salute. Diciamo che è ancora una situazione che può essere messa sotto controllo.